carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti di voi la gloria del signore si manifesta in mezzo al suo popolo partecipando tutti i suoi beni tutto il suo amore tutta la sua grazia tutta la sua benevolenza tutti i suoi doni la sua è anche la sua potenza la sua forza dio è il potente anticamente veniva nominato nella scrittura come appunto l'onnipotente shaddai dio delle altezze ed elohim il dio degli dei e rishabot dio degli eserciti veniva nominato adonai il signore tutti i titoli per grande a cui l'uomo si presta si prostra lo adora si sottomette lo ammira lo accoglie e accetta di fare comunione con lui guardate la grandezza di dio la sua grandezza sta nell'abbassarsi e nel donarsi alla sua creatura quando mi ricordo papà giovanni vendessimo terzo fece un discorso in piazza san pietro con discorso ma invece di si leggeri un foglio scritto parla col cuore fu conquistò l'ammirazione di tutta l'umanità una persona importante si abbassa affino a diventare uno come gli altri quando andò a trovare i bambini al bambino gesù l'ospedale bambino gesù e trattava i bambini come se fossero stati figli suoi ma invece di difendere la sua dignità il suo prestigio ruolo che accopriva si fece vedere piccolo quando a trovare carcerata e li salutò come fratelli fu qualcosa che sconvolse le opinioni di tanti e tanti furono conquistati dio glorifica il suo nome abbassandosi fino a noi fino a diventare uomo assume la nostra natura nel verbo e viene ad abitare in mezzo a noi la sua grandezza sta nel farsi piccolo nell'amarci fratelli chiediamo al signore il suo santo spirito perché solo lo spirito santo conosce i segreti di dio e ci ne riveli vieni o spirito creatore visita le nostre menti riempi della tua grazia i cuori che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore irradi i tuoi setti doni suscita in noi la parola si luce all'indelletto fiamma ardente nel cuore sane le nostre ferite col balsamo del tuo amore difendici dal nemico reca in dono la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce d'eterna sapienza sveleci il grande mistero di dio padre e del figlio uniti in un solo amore amen ecco la grandezza di dio fratelli nel comunicarsi a noi creature e questa è la sua gioia questo è il suo onore e oggi domenica il signore questo ci chiede di avvicinarci a lui meglio di lasciarci avvicinare da lui quando noi gli diamo culto quando noi diamo onore gli apriamo il cuore lui viene il nostro aiuto come dice salmista il nostro aiuto e nel nome del signore egli ha fatto cielo e terra oggi domenica ventisettesima domenica del tempo ordinario nella liturgia la parola di dio ci mette davanti all'esercizio della fede cos'è la fede noi abbiamo fiducia di una persona quando la conosciamo abbiamo i motivi per fidarci non ci si può fidare di chiunque questo è tipico a volte delle persone ingenue immature fidarsi del primo venuto no la saggezza vuole che si dia fiducia a chi merita tale fiducia se tu devi fidarti di un medico ti fidi perché sai che opera bene conosce le cose sa intervenire con coscienza allora ti fidi così se devi fidarti di un autista e sai che non ha mai fatto un incidente che guida onestamente ci rispettando le regole stradali eccetera allora dei motivi altrimenti prima di fidarti ebbene chiederti se valga la pena o meno anni fa un ragazzo rimaste morto in un incidente stradale cosa era avvenuto era avvenuto che erano saliti in macchina e hanno affidato il volante ad uno che era ubriaco e che non aveva neanche la patente e che non si sapeva che fosse l'avevano incontrato in quella circostanza li avevano affidata la guida e non fece a tempo a fare qualche chilometro che avvenne l'incidente era stato affidato il tutto a una persona che non conoscevano e che non era degna di guidare perché non aveva neanche la patente non era esperto allora ecco la fede la fiducia e affida credere prima di tutto nella persona che abbiamo davanti e secondo luogo affidarli la nostra vita affidarli le nostre cose i nostri impegni i nostri interessi il signore fratelli per per darci il dono della fede ha voluto rivelare se stesso durante la storia e l'apice di questa rivelazione è l'avvenuto del figlio suo che ha assunto la nostra umanità si è fatto uno di noi e ha venuto a soffrire come noi come dice la lettera di ebrei si è fatto in tutto simile a noi si è stato provato in tutto simile a noi fuorché nel peccato ha voluto a prendere su di sé i nostri peccati non è venuto a giudicarci e condannarci è venuto a cercare ciò che era perduto e per confermare questa sua volontà accettando di soffrire fino alla morte e alla morte di croce e aveva innanzitutto gesù cristo era stato predetto dai patriarchi dai profeti e le cose predette furono realizzate quando giovanni battista un giorno mandò due dei suoi discepoli a chiedere a gesù se era colui che doveva venire dovevamo o dovevamo attenderne un altro gesù non rispose dicendo sono io rispose a questi inviati riferite a giovanni quello che vedete i ciechi vedono i storpi camminano il vangelo annunciato ai poveri c'è tutte predizioni che trovavamo nei profeti per cui il senso della risposta di gesù dice vita giovanni quello che vedete e udite cioè le cose predette sono realizzate allora potete dare fiducia e noi dobbiamo dare fiducia a dio un giorno lo diciamo nella prima lettura il profeta abacuc davanti al signore signore io invoca tu non rispondi io grido annuncio disgrazi ma tu non vieni in soccorso e il signore risponde guarda fissa la visione si aspetta se non avviene aspettalo che di certo verrà e non tarderà il giusto vivrà mediante la fede e gesù nel vangelo che ascoltiamo dice se voi aveste fede quando un grannello di senepa potreste dire a questo gerso sraticati e vai a piandarti nel mare e adesso vi obbedirebbe vi obbedirebbe e ammonisce pure Gesù quando noi abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato ordinato da dio diciamo noi stessi siamo servi inutili perché tutto quello che ci viene accordato è solo per puro amore dice da tutto per grazia allora non dobbiamo vandare i meriti davanti a dio ma andare i suoi meriti e la sua fedeltà glorificare la sua parola affidarsi al suo nome e vogliamo prendere davanti ai nostri occhi le parole che san paolo rivolge a suo discepolo timotio quando gli chiede di ravvivare il dono di dio che aveva ricevuto con l'imposizione delle sue mani non vergognarti di dare testimonianza al signore nostro non vergognarti di me che sono in carcere prendi come modello i sani insegnamenti che è unito da me per crescere la fede allora guardiamo i santi guardiamo le persone i testimoni della fede san giovanni paolo ii secondo quando disse con g l'anno santo della redenzione una delle cose chiedeva scoprire i testimoni della fede signore gesù tu sei il testimone di dio padre nella tua umanità hai manifestato la sua gloria e hai partecipato a noi tutta la sua grazia oggi ti chiedi amo a noi che crediamo aumenta la nostra fede tu non ci giudichi secondo la nostra capacità ma guardare bisogni che abbiamo di te accresci la nostra fede e donneci di vivere di fede confidanti in te affidandoci a te tu che vive il regno per tutti i secoli dei secoli amen vergine santissima tu sei state proclamate beata perché hai creduto all'adempimento delle parole del signore tu che hai creduto e sei stato glorificato accanto al figlio tuo accompagna tutta la chiesa nel suo cammino con gesù tuo figlio nostro signore e donci di rimanere di fedele tutta la vita e di essere sottomessa ad ogni parola uscita dalla sua bocca a lui gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen e la fede fratelli illumine tutta la vostra vita vi arricchisca di ogni doni di grazia e dia compimento ad ogni parola uscita dalla bocca di gesù amen